salve buonasera a tutti appuntamento con l'estrazione del lotto del giorno 8 settembre e volevo segnalare una delle due delle terzine che avevo che avevo dato come programma di settembre appunto che erano due terzine e adesso ve le faccio vedere perché lo date il non mi ricordo che giorno era sole luna ciclo sole luna il vabbè comunque sono qua se riuscite a vederle qua queste sono due terzine 18 19 20 16 17 18 bene poi è uscito l'estratto 2 su genova poi uscito l'ambo secco 59 55 che fa parte di quattro ambi secchi che do nel mio gruppo sono quattro ambi secchi 59 55 uscito poi uscito ancora il 10 che è il numero di settembre sia su cagliari che su roma che continua a saltellare di qua e di là e poi vabbè ci saranno ancora altre combinazioni che stasera dovrò controllare il 2 uscito anche su venezia quindi uscito a genova venezia comunque io l'avevo dato per genova e firenze mi sembra di aver detto tutto questa sera penso di sì se qualcuno degli scontrini me li può inviare ecco che sono arrivati gli scontrini buona vediamo va che bello bravo bravissimo qua sono arrivati dei bei scontrini non so se si vede l'importo 200 euro euro che allargo 206 poi ne è arrivato un altro vediamo di quanto è c'è il telefono che fa un po il pirla però è 57 quindi queste 200 euro vediamo un attimo cosa è stato giocato perché non riesco a vedere mi pare credo il 2 ecco il 2 si eccolo qua io vi auguro una strepitosa serata a tutti vi do l'appuntamento a domani mattina è morta la regina elisabetta e mi dispiace perché era mi piaceva molto la seguivo e niente mi dispiace aveva anche la sua bell'età e adesso faranno faranno 12 giorni di lutto in gran bretagna bene grazie a tutti e buonanotte